Cogliamo l'attimo di silenzio per parlare con il direttore del circuito di Misano Adriatico, Andrea Albano. Cosa ci dice di questa edizione e quali sono le aspettative? L'edizione 2017 del Petronas Urania Grand Prix Track si stanno pronunciando di grande successo. Abbiamo già un'affluenza agli esterni decisamente importante per il sabato e la domenica sarà veramente gremito. Quindi le novità di quest'anno sono sicuramente nella parte area test dove ci sarà l'opportunità di provare tutte le case costruttrici con un gioco dedicato a chi poi guida quotidianamente i camion. Abbiamo un'area poi commerciale nel centro di guida sicura, stanno arrivando i decorati, quest'anno dovremo arrivare ai 170 come iscritti per poi vederli questa sera nello splendore della notte di Misano. Quindi un weekend all'insegna del successo, di pubblico, di divertimento di questa grande riunione, ormai la tradizione qua a Misano e anche la scelta. Grazie, buon lavoro! Grazie a voi!